Ciao a tutti ragazzi, lei è Rachele e oggi vi faremo vedere come tarda a mangiare a un bebè che ha iniziato lo svezzamento. Qui abbiamo un bel vasetto di frutta, iniziamo, si vende il cucchiaino, Rachele già come mangia col cucchiaino dei grandi, vedete quello di ferro, tieni. Metodo numero uno, l'aeroplanino, guarda. Patapunfete! No. Poi c'è il metodo dello scherzo, Rachele guarda, 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 eccola, brava, e questo è un altro metodo. Poi c'è il metodo della persuasione, mettersi fissi qui davanti e infiare, ecco. Poi c'è il metodo della prova, perché loro si fidano di noi genitori, quindi noi prima lo assaggiamo, Rachele guarda. Ecco qua. Mmm, buono! Ancora. Dove vai? Poi c'è il metodo degli animaletti, Rachele come fa il gattino? Miau, miau! Lei ride e voi li inserite, così. Ancora. Ancora. Saluta un po' a tutti, saluta. Bravi! Ciao a tutti! Ciao youtubers! Saluta. Saluta a tutti. Ciao! Ciao! E' brava Rachele? Sei brava? Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao! Ciao, ciao! Ancora? Mmm, ecco fatto. Bocca mia, bocca tua. Qual è più bella, la mia o la tua? Mmm, anche questo è un altro metodo. Poi quando hanno fame si spolgono loro, come in questo caso. Ecco, questo è un altro metodo. Vi fa delleccare direttamente il tappo. Com'è? E' buono! E alla fine, come premio, un bel biscottino. Qui abbiamo preso soltanto un pezzettino perché è già rotto. Ehi! Che fai? Mi ha rubato il bel biscottino. E a papà? A papà un pezzettino? Niente. Un pezzettino a papà? Mi raccomando, state sempre vicini quando mangiano i biscottini. Perché potrebbero formarsi dei pezzettini un po' troppo grossi e magari andargli di traverso. Così state qui e state pronti per fare la manovra di disostruzione. Che poi cercherò di spiegarvi. Buon appetito! Ciao a tutti!